Sono Lorenzo della Galleria Continua, con Maurizio e Mario lavoriamo da un quarto di secolo con Michelangelo Pistoletto, un artista umanista che ci ha insegnato tantissimo. Lo specchio senza il mondo, senza l'uomo, non esiste. Ciò che vediamo nello specchio siamo noi e intorno allo specchio e gli altri. Essere liberi non significa nulla se non siamo responsabili. Questo è il valore dello specchio, questo è il valore della società. Michelangelo ci insegna a mettere insieme gli opposti, il terzo paradiso, il suo concetto. Come nell'arte metti il giallo, il blu e fai il verde, quindi dovremo unire le differenze per creare una cosa nuova, non annullarsi la vicenda. Nelle religioni, nella politica, nell'amore, creare e costruire attraverso le differenze. Amare le differenze per essere migliori. Questo è Michelangelo, questo è quello che ci esprime con la sua opera. Grazie Michelangelo, ho 87 anni, sei sempre un giovanotto. Ci insegni e noi faremo del nostro meglio per essere all'altezza dell'arte e della cultura. Grazie. Ciao.